Vinciamo lo Scudetto? Assolutamente sì, tanti auguri! Vinciamo lo Scudetto? L'Inter quest'anno non lo fermo più nessuno. Sicuramente per l'Inter deve essere l'obiettivo. L'Inter può vincere lo Scudetto col mazzo che tiene Mancini, scusi il termine, sì. L'Inter può vincere lo Scudetto quest'anno? Lo auguro proprio che sia l'anno giusto. Cosa ti dà questa convinzione? Guarda, i risultati che stiamo ottenendo nonostante il gioco non sia brillante. Vinciamo lo Scudetto? Ma io spererei che andasse in Serie B la Juventus. Speriamo di sì. Con gli scongiuri. Questa è una presa in giro? No, no, assolutamente sì, assolutamente. È un auguro scaramantico al contrario. La Juve dove arriva? Seconda. E l'anno buono, vinciamo il campionato? Sì. Ci tocchiamo ma diciamo di sì. Perché siamo più forti possiamo solo che migliorare. La rivale più accreditata secondo te qual è? La Juventus come al solito. Perché? Perché la Juventus sono forti, sono abituati a vincere. Poi se devono avere un rigore ce l'hanno, non c'è problema. Perché io sono sempre anti-Juve. Quindi a prescindere... Sempre anti-Juve. La rivale più accreditata secondo te qual è? La Juventus, ahimè. Ma ahimè, perché è forte sul campo? Perché è forte soprattutto sul campo e punto. Fermiamoci qua. Io credo sul campo perché la Juve sta giocando bene adesso. Si è ripresa bene, penso che sta giocando bene. È l'unica che può dare problemi all'Inter. Ma da Juventino speri di essere competitivo sul campo oppure col solito aiutino? Noi sai. Vabbè, diciamo che se Mancini ha vinto uno scudetto arrivando quarto, magari anche noi una volta possiamo riuscirci. Va bene, grazie. Ma no, ma è talmente forte che secondo me fissarsi su questi aspetti non lascia tempo che trova. È forte sul campo. Spinterello e la Juve ormai non ne ha più. Da quando non c'è più Moji, basta. Juve tagliata fuori. I ragazzi di Torino sono sempre pericolosi perché hanno delle doti nascoste che noi non abbiamo. La rivale più accreditata secondo te qual è? La Juventus. Si crescerà. Ma sul campo o anche a livello arbitrale? La Juve ha sempre rubato secondo me. Alla fine sarà la Juve, anche se il Napoli forse è quello che gioca meglio. Il Napoli. Il Napoli è fortissimo. Ha uno squadrone, c'è Iguain poi. Purtroppo lo vincerà la Juve nel campionato. La rivale più accreditata per adesso è sempre la Juve. Chi è secondo lei la rivale numero uno dell'Inter? La Juventus. Perché? Perché? Perché la Juventus? Sarà una sfida a due come al solito. Inter-Juve. Sì, Inter-Juve al finale.